Appello alla beneficenza della Caritas di Sumonavalva per i giovani ucraini al fronte. La richiesta di aiuto è venuta da una parrocchia della Chiesa Ortodossa Ucraina. Con l'avvicinarsi della stagione invernale sono richiesti sacco a pelo, torce, guanti di lana, impermeabili, in buono stato, nuovi, saponette. La mette da barba, schiuma da barba, scatolame a lunga conservazione come tonno, legumi, carne e scatola. Scatta la seconda fase della solidarietà dalla ballepelinia che non si è mai tirata indietro. Di fronte allo scenario di guerra i prodotti vengono raccolti nella sede della Caritas di Ocesana in via Porta Romana lunedì mattina dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 18, martedì dalle 9.30 alle 13, mercoledì dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Mercoledì sarà l'ultimo giorno disponibile per la raccolta.